La banca centrale della Turchia ha tagliato il tasso di interesse. Il costo del denaro scende al 5,75%, lo 0,25% in meno rispetto al tasso precedente. Una decisione che, secondo i responsabili della politica monetaria turca, ha come scopo di rallentare la crescita economica e di frenare il cambio lira-turca-dollaro al massimo storico.